Adesso proviamo ad aggiungere un ulteriore step che chiaramente complica un po' le cose ma lo rende divertente e dipende chiaramente dalle competenze che avranno gli allunni con cui si sta lavorando. Ed è sostanzialmente la possibilità di creare dei cloni, dei cloni che non saranno come il timbra di prima delle immagini statiche ma saranno delle ulteriori palle che si muoveranno all'interno dello stage e quando gli diremo di tracciare delle linee tracceranno delle righe. Per fare questo se andiamo in controllo, alla fine di controllo troverete tre blocchi molto interessanti, uno che si chiama quando vengo clonato e vedete che ha la forma dei blocchi dell'evento, crea un clone di me stesso, quindi creerà un clone e elimina questo clone. Allora, prendiamo, facciamo in modo che quando la palla tocca il bordo, crea un clone. Allora, prendiamo, lo mettiamo all'interno del se, facciamo partire la palla, togliamo la penna su e facciamo partire. Vi faccio notare una cosa, anche qui capite perché a volte l'ordine dei blocchi è importante. Vedete che alcune volte fa il clone, altre volte no. Da cosa può dipendere? Fermiamo. Allora, da cosa può dipendere? Vediamo, per sempre fai velocità passi, rimbalza quando tocchi il bordo. Questo potrebbe anche, diciamo, escludere la parte sotto. Allora, proviamo a fare questa modifica. Allora, spostiamo il tutto in modo tale da poter prenderci questo blocco, lo portiamo all'interno del se sta toccando bordo e riportiamo tutto in questo modo. In questo modo, dentro il se sta toccando bordo, trovo sia il rimbalza che il ruota che il crea clone. Facciamo ripartire e vediamo, crea clone, lo crea, lo crea, vedete tutte le volte che tocca il bordo, anche quando lo tocca di striscio, ok, vedete, crea un clone. Quindi abbiamo un po' risolto questa cosa. Però abbiamo visto, faccio ripartire, vedete che comunque siamo, in questo caso assomiglia al timbra, cambia rispetto al timbra perché se premo il pulsante rosso del fermatutto, i vari cloni che abbiamo creato si cancellano. Il problema è che però, alla fine, è come il timbra, cioè il clone non si muove. Beh, allora dobbiamo utilizzare questo blocco, abbiamo detto che vedete che assomiglia ai blocchi degli eventi, vuol dire quando vengo clonato, cosa devo fare? Beh, cosa devo fare? Devo fare questa identica cosa. Allora, faccio un tasto destro sul per sempre, scelgo duplica, in modo tale che mi duplichi tutto, e faccio così. Adesso faccio partire e si creano dei cloni. Il problema è che chiaramente, lo capiamo subito, il numero dei cloni aumenta in maniera esponenziale. Perché? Perché sia la palla originale che il clone crea un clone a sua volta. A un certo punto manderemo in blocco scratch, perché lo mandiamo in overflow, dal numero di cloni. Allora, togliamo crea clone dal clone stesso, lo lasciamo che sia solo la palla originale a creare un clone. Facciamo ripartire, ok, clone, vedete che sono già inferiori rispetto a prima, perché solo la palla originale crea il proprio clone. Se noi facciamo partire la penna giù, tutte le varie palle iniziano a scrivere e a fare dei tracciati. Anche qui, poi a lungo andare, arriveremo sicuramente a un overflow, cioè a un numero troppo elevato di palle che manderebbe in crisi scratch, con conseguente blocco. Allora, possiamo risolvere andando a mettere un limite massimo di cloni. Come possiamo fare? Beh, utilizziamo una condizione e utilizziamo una variabile. Allora, andiamo in variabili, creiamo una nuova variabile, la chiamiamo cloni, o se preferite numero cloni. A questo punto dobbiamo impostare il numero cloni, dobbiamo dirgli quanti cloni al massimo vogliamo. Per fare questa cosa potremmo dire che, allora intanto utilizziamo un se, andiamo in controllo, prendiamo il se, e dobbiamo dirgli se, non so, il numero dei cloni è inferiore a 20, allora crea un clone. Se è superiore a 20, altri non lo creerà più. Quindi questa istruzione la utilizzerà solo quando il numero dei cloni è inferiore a 20. Quando andremo a superiore a 20 non verrà più utilizzata. Per fare questa cosa utilizziamo la variabile cloni e utilizziamo anche gli operatori. Allora, andiamo in operatori, scegliamo l'operatore se, abbiamo detto, se il numero dei cloni è inferiore a 20. Quindi utilizziamo il minore, lo prendiamo, come prima, come al solito, lo mettiamo qui, scriviamo 20, che sarà il numero massimo, e da variabili prendiamo la nostra variabile cloni. La mettiamo nel primo operatore del nostro controllo. Se il numero dei cloni è inferiore a 20, allora crea clone di me stesso. Adesso però siamo a 0 e va anche bene questa cosa. Abbiamo un problema però, non riusciamo a calcolare il numero dei cloni. Se io faccio partire, continuerà a creare cloni perché la variabile è sempre a 0. Allora, cosa facciamo? Aggiungiamo, cambia cloni di 1, lo mettiamo dove? Quando creo il clone. Quindi tutte le volte che creo il clone, prima aumento la variabile di 1 e poi creo il clone. Quindi in questo modo, vedete che man mano che vengono creati i cloni, la variabile aumenta. Vedete? E così via. A questo punto però possiamo fare anche in un altro modo. Se io faccio ripartire lo script, vedete cosa succede? Parte sempre dall'ultimo valore. Ma in questo caso mi si ferma a 20, ma i cloni sono 4, perché abbiamo solo 5 palle che si muovono. Beh, allora dobbiamo intervenire come abbiamo fatto prima. Allora, dobbiamo prendere i portacloni, lo mettiamo fuori del per sempre, in modo tale che quando iniziamo, ho solo fatto un po' di posto, quando iniziamo il nostro programmino, il nostro script, quando avviamo il nostro script, il portacloni parte da 0. In questo modo, allora intanto puliamo, facciamo partire, parte da 0 e andiamo avanti. In questo modo, vedete che i vari cloni si muovono, iniziano a crearsi. Quindi, e così via, abbiamo l'aumento dell'area. Possiamo anche aumentare, come prima, dato abbiamo già la funzione, la velocità. Aumento la velocità, poi posso aumentare la dimensione della penna. Vedete che aumentando la dimensione della penna succede questa cosa. Una cosa anche carina può essere questa. Allora, quando la palla si muove, quindi nel per sempre, anzi, facciamo una cosa di questo tipo. Facciamo un altro controllo. Quindi andiamo in situazioni. Prendiamo, quando premo il tasto spazio, scelgo la C per colore, e gli dico penna. Ok, diciamo, cambia colore, penna di 10. Perfetto. A questo punto, puliamo, facciamo partire la palla, aumentiamo la grandezza della penna, e poi premo il tasto C. Vedete che man mano cambia il colore della penna, perché aumentiamo il bordo, scusate, aumentiamo lo spessore della penna, premo il tasto C, premo il tasto C, e cambio il colore della penna. In questo modo. Un altro trucco potrebbe essere stato questo. Allora, riportiamo il colore della penna. Ok, anzi, facciamo partire, facciamo in questo modo. Allora, metto, porta colore penna, pongo l'inizio come il solito, in modo tale da poter definire un colore, definiamo un colore, allora il colore di partenza è il blu, facciamo un blu un po' più scuro di prima, perfetto, puliamo, facciamo partire, e fa quel colore blu lì, perfetto. Potrei usare anche questo piccolo trucco. Allora, cambia colore penna di 10, anziché metterlo collegato con l'evento, lo posso mettere nel per sempre, posso metterlo all'inizio, 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 tutte le volte che farà dei passi, poi cambierà il colore. Vediamo, facciamo partire, vedete che farà un, aumentiamo la dimensione, vediamo cosa succede. Aumentiamo ancora la dimensione, tutte le volte che fa il ciclo per sempre, cambierà la penna, il colore della penna. Potremmo modificare ancora, potremmo anziché fargli cambiare il colore della penna man mano che si muove, quando tocca il bordo, e così via. Come vedete le sfumature di impiego di questi blocchi sono tantissime. Io vi consiglierei di non far vedere tutto, ma di spiegare, di far vedere come abbiamo fatto finora nei video, aggiungere qualcosa e poi far interrogare gli alunni, gli studenti, e sfidarli sostanzialmente ad aggiungere nuove funzionalità, ad essere più creativi. Ad esempio, qui abbiamo usato il tasto C per aumentare, scusate, per cambiare il colore della penna di 10, ma vorremmo magari tornare indietro, quindi dobbiamo fare anche la funzione cambia colore penna di meno 10. e così via. Nel reset, che noi abbiamo creato prima con il tasto spazio, abbiamo il pulisci, porta dimensione penna, ma potremmo anche premere il tasto spazio e riportare, non so, la velocità, il numero dei cloni, il colore della penna, insomma, ci sono diverse modifiche che potremmo tranquillamente fare e ampliare questo giochino. Vedi che è un giochino molto semplice, si replica in pochissimo tempo e tante volte io, soprattutto nella parte base, non in questa parte, ma nella parte iniziale, non faccio mai salvare gli alunni, perché voglio proprio che provino a ricreare il file da zero cercando di capire quello che hanno utilizzato e non che sia una semplice replica di quello che io vado a proporre.